Allora anticipiamo le premiazioni prima dei campioni provinciali, vi invito qua Thomas Pedoglia che è lo sponsor della maglietta del campione provinciale di Marese e vi ringraziamento a Laura Unge per finanziare il movimento giovanile che ne ha bisogno quindi chiamerei prima di tutti il G1 con Potassi e Damian adesso facciamo l'apporto con tutti qua Purtroppo G1 femminile non l'abbiamo abbiamo G2 campione provinciale Valori Mattia della Udrimo bravo per la categoria G2 femminile qui abbiamo il caso più unico del lano è il papà che preme la figlia Ludovica Pedoglia brava vai via Mattia no Mattia vai via vai via vai via aiuto aiuto passiamo alla categoria G3 che è tra GORRANI Federico Sanmartino passiamo grazie 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 per la città femminile invece la garna greta un metro di petto Categoria G4 Categoria G4 Categoria G5 Maschile Qui c'è la doppia di Vincenzo Pagli Per quanto riguarda maschile Vincenzo Nicolò Bravo Per femminile Ora Rastripoli Brava Per la categoria G6 Maschile Vincenzo Pagli Francesco Buzzi Bravo